Il Partito Pirata è una lista transnazionale, programma comune per i candidati di tutti i paesi UE. Obiettivo primario? Democratizzare le istituzioni dell'Unione. Il Partito Pirata nasce per liberare la conoscenza e renderla disponibile a tutti. A farlo saranno dei candidati che non sono professionisti della politica, ma sono professionisti nelle loro vite. Ci chiamiamo Pirati, ma il nome non deve far preoccupare perché esistono anche i Pirati buoni, come esistono gli hacker etici. Nel programma, che è l'unico tra i partiti concordato a livello europeo con 11 diverse nazioni, abbiamo una forte critica alla legge sul copyright che andrebbe ripensata per tutelare chi effettivamente produce i contenuti e non le corporation che sfruttano gli autori come anche i giornalisti.